che non va bene per la ricchezza e la competitività delle nostre aziende, che non va bene, lo citava se non vado errata, lo citava il senatore Monti, l'iperregolamentazione di cui questa Europa nella foga di occuparsi di tutto si è resa protagonista facendo trovare le sue imprese, tutte le sue imprese ma particolarmente le piccole e medie imprese in una condizione di grande difficoltà per poter competere su mercati che intanto diventavano estremamente aggressivi e anche questo lo abbiamo visto e sulla difesa dei confini, sull'assenza di una politica estera che possa essere davvero efficace, sulla politica di difesa, anche questo l'ho ampiamente detto nella mia relazione di questa mattina, noi ci siamo illusi che la la nostra pace, che la pace che abbiamo avuto e di cui sicuramente la costruzione europea è stata la principale protagonista, fosse qualcosa che potevamo dare per scontato, un giorno ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che scontato non era, un giorno ci siamo svegliati e abbiamo scoperto anche che se chiedi a qualcuno chiaramente di occuparsi della tua sicurezza devi anche sapere che in qualche maniera questo sarà un limite per la tua capacità di prendere le decisioni e che quindi la libertà è qualcosa che va difeso ed è qualcosa che ha un costo e questo lo abbiamo scoperto noi italiani ma l'ha scoperto l'Europa che oggi deve correre a ripari sull'assenza non solo di una colonna europea dell'alleanza atlantica che come sapete io auspico da tempo ma anche proprio sulla sua capacità di avere un'industria della difesa, di avere dei campioni europei della difesa che oggi stentano ad arrivare.